Questa ragazza arriva dall'alberghiero e adesso ci fa un buon Moscow Mule, vai! L'avete già fatto il Moscow Mule a scuola? Il bicchiere, quello di rame, vai ghiaccio. Raffredda il bicchiere. Ah no, aspetta, adesso c'è domanda, adesso c'è domanda. Così, aspetta, prendo così al contrario, mettilo qua e giro. Ok, perfetto, butta l'acqua che si è formata al suo interno, fai vodka, dove c'è la lignetta, 45 ml. Ok, tienilo dritto il jigger, ok, va bene, 50, dai. Pensione, vai, riempi il bicchiere col ginger beer. Perfetto, basta. Adesso spremi mezzo lime, vai che c'hai la lime dove c'è la tutta. Ma che non tagliarti eh, sennò poi ci chiama la scuola. Vai. Un'imbranata, mi fai? Ah dai, scherzo. Pratico al contrario. C'è? Così? Vai. Forte. L'ho visto. È un po' duro il lime magari. Sì. Va bene. Ti dai una leggera mescolata, però piano così non sgasi il ginger beer. Ok. Adesso il lime che hai spremuto, mettilo come decorazione. Perfetto. Il tuo primo Moscou Mule.